Bene, benvenuti, MakeHuman per Vircadia Allora, MakeHuman versione 1.2.0 e cominciamo a fare le cose il più semplici possibile quindi partiamo da quell'humanoide di default che presenta MakeHuman ok? Questo la prima cosa da fare è di scegliere lo scheletro quindi bisogna andare nella parte dove parla appunto di scheletro ok, quindi andiamo in PoseAnimate qui abbiamo Scheleton la prima cosa da fare è dirgli, com'è già così, di usare lo scheletro NONE Gianfranco ha detto di usare lo scheletro di Aifidate ma abbiamo visto che ci sono dei problemi quindi usiamo il metodo leggermente più lungo una volta fatto così bisogna però ancora andare nella posa qua e qui selezionare l'ultima T-Pose quindi mettere e selezionare la posa T la posa T a questo punto andiamo ancora in Geometria e in Geometria dobbiamo selezionare gli occhi quindi andiamo sotto occhi e negli occhi scegliamo il Low Poly ok, quindi questo serve per far apparire poi gli occhi e poi quando adesso facciamo l'export di questo oggettino quindi andiamo sotto Files facciamo Export dobbiamo esportarlo in formato Film Box FMX e segniamo Scale Units Metri a questo punto abbiamo il nostro il nostro umanoide senza scheletro e possiamo salvarlo e chiamiamolo Umanoide Umanoide e viene salvato Umanoide.fbx questo è il primo step è il nostro umanoide